Vattipaglia come Roma, in occasione della festa della mamma anche in città, sono spuntati i manifesti della campagna antiabortista a cura dell'associazione Pro Vita Onlus. Gli stessi che erano apparsi anche a Roma ad affiggerli è stata l'associazione Vattipaglia Nostra, i cui membri hanno dichiarato che la loro iniziativa è volta a difendere il valore della famiglia tradizionale dalla dittatura del politicamente corretto. I manifesti sono stati regolarmente autorizzati dall'amministrazione della sindaca Cecilia Francese, sollecitata dalla società civile a seguire l'esempio di Virginia Raggi che li ha prontamente rimossi dalle strade della capitale.